L'acqua pubblica potrebbe avere vita difficile nonostante il referendum popolare del 2011. Di fatto, secondo il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua, il DDL concorrenza apre la strada alla privatizzazione dei servizi locali. Per questo il forum fa appello alla mobilitazione generale ma anche alle organizzazioni sociali, ai sindaci, alle stesse società e ai parlamentari. L'appuntamento è alla manifestazione nazionale in programma a Napoli il 20 novembre. Le concessioni verranno date molto più facilmente e quindi questo significa che fra un po' avremo delle multinazionali, soprattutto francesi, che controlleranno l'acqua italiana e questo è molto grave. Per questo chiediamo ai parlamentari e a tutte le istituzioni abruzzesi se vogliono veramente difendere l'Abruzzo e l'acqua, di darsi da fare. Voglio ricordare che 27 milioni di persone hanno votato contro la privatizzazione e mettere in dubbio questo referente significa mettere in dubbio la democrazia in Italia. Se 27 milioni di persone non possono determinare nulla in Italia si dica che cosa bisogna fare perché l'acqua rimanga pubblica e a servizio di tutti. Voglio vedere io un comune che già ha grandissimi problemi a dire no, non voglio i finanziamenti perché voglio mantenere l'acqua pubblica. Però ai cittadini poi che arrivano i disservizi magari, dico dell'ACA, della SAS o di altre società, c'è il rischio che pensino? Magari se la danno a un privato tutto funzionerà meglio e dal rubinetto mi uscirà più acqua? Sì, qualcuno quest'estate l'aveva proposto, qualcuno che d'estate comunque ha avuto l'acqua dalla mattina alla sera, i balneatori. Noi abbiamo detto benissimo, andate a vedere le tariffe che si pagano in Europa, andate a vedere le tariffe che vengono fuori quando si privatizza l'acqua e voglio vedere se siete per questo. Le tariffe aumenteranno in maniera esponenziale, non ci sarà modo di poter cambiare le cose perché l'amministratore delegato non lo votiamo, ok? Ce l'abbiamo e basta, invece il sindaco se non va bene lo possiamo cacciare. E terzo, gli investimenti in realtà non li faranno, ne faranno sempre pochi e voglio ricordare che quando Parigi ha ripubblicizzato l'acqua ci ha messo due anni solo per capire com'era il know-how della gestione dell'acqua perché le due multinazionali non facevano sapere assolutamente niente ai comuni, quindi dare in mano il controllo di multinazionali o dei privati del know-how della gestione dell'acqua significa perdere la nostra sicurezza idrica e la nostra sovranità idrica.